bella ragazzi siamo i grana se siamo tornati con un nuovo video di in segreto lo so che tutti stavate qui ad aspettare il nostro video di in segreto stiamo andando a controllare i nostri segreti come procedono non sono arrivati altri segreti quindi non ci caga nessuno infatti e siamo qui per dire segreti normali della gente normale su persone normali cioè che tanto normali non sono se sono su in segreto giusto? infatti donna di 19 anni ho lasciato il mio ragazzo perché non se l'è presa quando mi ha trovato a letto con un altro cioè come ti lascio perché ti amo troppo è tipo quello lui voraccio oltretutto che l'ha trovato a letto con altro magari ha avuto la forza di perdonarla lei l'ha lasciato perché lui non si è incazzato però se si è incazzato ci stava cioè tu incazzate se no così significa che è te non ti interessa hai capito capito io ci tengo ma vaffanculo dai a me piacciono ragazzi e sono intenzionato a dirglielo non so perché ma spero che mi rifiuti masochista vabbè è come per l'altro di prima è masochista mi piace scoraggiare i luoghi affollati autobus, treno, solo per vedere le persone che soffugano dalla bussa troppo bellissimo io non lo faccio perché mi fa schifo cura la buzza mia quindi cioè no no lo sai quando esci dall'autobus scoraggi tu esci e l'autobus si chiude e loro morono fantastico ho appena spaccato la doccia ho rotto il vetro con una testata ho detto che sono scivolato la verità è che mi stavo masturbando con un pochino troppa foga come fai cioè qual'è il modo perché si vede che fa così ma non sono due mesi in mezzo che non esco dalla camera mia da camera mia è uguale tanto non esce tutti ti inventi le cose mi faccio portare da mangiare guardo film e pornazzi chill e netflix ogni volta che vado in un bagno pubblico non tiro mai lo sciocconi per fare un dispetto alla donna delle puzie al mio compagno mi puzza così tanto il culo che ogni giorno prima che entra in classe spruzzo un po' di durante sulla ssa ah sono due segreti in uno raga comunque a me mi hanno detto che così parla da un catmon è vero? boh coincidenze io non credo oddio che freddo potresti essere te lo sai? dici? si non lo so ma ogni tanto ho detto sta cosa per far capire che non sei tu ma in realtà sei tu ero eh intorno agli 8-9 anni immaginavo che la mia mano destra fosse la mia fidanzata si chiama federica comunque cioè non è che è giusto non nel senso che mi masturbassi semplicemente le parlavo dicendo le frasi stroccinate avevo seri problemi si chiama federica come lo fai tu non lo fa nessun altro andiamo a cena oggi dai non fa qua faccia te va un po' di pesce mi masturbo almeno due volte al giorno grazie per farcelo sapere credo di essere l'unico adolescente che adora i negramaro ma pure l'unica persona sulla terra a me piacciono i negramaro a chi è che non piacciono i negramaro? a me i negramaro piace solo quello del capo la mia ex diceva di aver composto una canzone per me quando la suonò la riconobbi e nel dubbio usai shazam non dissi niente per non delurderla ma ora che non siamo insieme posso dirlo Ridicola era il mio artista classico preferito sono un 2002 una sera mi sono bevuto 3-4 shortini con tutta la mia comitiva il segreto è che dentro la comitiva c'era un ragazzo una 2003 che mi piaceva tanto e avevo paura a dirglielo ma grazie all'alcol l'ho portata a scuola l'ho soprattutto senza H in estate e di sera l'ho baciata ancora e l'abbiamo ritrombato grazie ai shortini se sono bevuti 3-4 baglie di pantaloni esatto gli hanno dato la testa una volta il mio ex iniziò a toccarmi senza andare oltre continuo aumentando le dita io non lo fermai nonostante sentissi anche dolore fino a che debbi interromperlo gli dissi di levarti da quel cazzo di anello lui ti scuso gli si tolte il suo orologio ma che cazzo cioè io mi ho tolto perchè sembrava la cazzata c'era entrato con tutta la mano con tutto il braccio i miei cittadini di casa hanno una vita sessuale altissima spiro a diventare come loro grandi espirazioni quando mi siedo sul vater ho un istinto fortissimo che mi porta ad allargare le gambe e a sputare all'interno del wc voglio che in Italia torni come era un tempo ma basta che quando c'era lui ho 14 anni ma un tempo cosa quando non esistevi quindi dovresti spare il tempo quindi ciò mi fa l'Italia è un posto migliore non metto mai i piedi per terra mentre dormo perchè ho paura di risvegliarmi senza una gamba per colpa dei topi cioè so che non succederà mai ma boh i piedi per terra mentre dormi come fai? no che ne so magari tu casca in piedi e li metti per terra però c'hai i topi in questo campo dei topi c'è il prossimo i topi che mostri eh ho vent'anni e gioco ancora a Stardoll che cos'è Stardoll? ma che figata lo portamo sul canale te prego c'è il nome c'è il nome guarda inquietante così vestito ma non c'è sono accontentate questo no così così dai mix it up vai mamma mia mix it up mix it up mix it up mix it up basta torniamo ai segreti? ok ragazzi se volete un gameplay su Stardoll lasciamo 5000 like io ho una fidanzata e lei ha una sorella molto figa il segreto è che me la limono di nascosto però mi senti molto in colpa ma sua sorella è così buona decidi la mia ex ragazza mi ha fatto le peggior cose ma nonostante tutto non riesca ancora a scordarla dopo due anni beh c'è credo se sta fatta le peggior cose è ovvio che non riesci a scordare ah ma in quel senso io pensavo nel senso che ha fatto un merdale no io ho capito un'altra cosa conosciuto una ragazza della festa di capodanno 2014-2015 che a me piace tuttora io continuo ad essere dai se quando leggi è il serio che ti porta a falsa io continuo ad essere interessato nell'essere lo tento sempre di approcciarmi ma in ultimo non funziona mai ma che vuol dire e così ogni volta che ascolto ti sembra normale mi sembra che marzo da zero abbia scritto apposta per me ma ti sembra normale poi d'estate max gazzè ti metti sotto ma perchè quando la mia tipa butta l'assorbente io lo recupero e lo uso a modo di bustina da te lo so che non è vero io lo spero è una vera tisana poi il colore rosso mi piace perchè giustamente lui bene il colore ma zitto ragazzi io direi che con il grandissimo edward cullen possiamo salutarci con edward cullen che si fa la tisana con l'assorbente possiamo chiudere se questo video è piaciuto facciamo 5.000 like se volete il video su star doll facciamo 5.000 e 1 like noi come sempre ci becchiamo al prossimo video la grazia è tutto ciao belli ciao 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 ciao